Ciao a tutti dal vostro Gabomen, eccomi qua, sono tornato ancora una volta con una partita online della modalità MyClub Jenny Pede, divisione 9, stesso livello di forza squadra, vediamo un po' che cosa succede Dagli così regà, allora, selezioniamo il nostro Estadio Mineirao, vediamo la sua formazione, addirittura un bel 4-3-3 A 81 di spirito squadra, quindi spirito di squadra nettamente a mio favore Duvanzapada, Campbell, Griezmann, Koke, Paduil, Wanmi, Coentrao, Demicellis, Miranda, Ovedes e Zezni in porta Quindi, che cosa andiamo a fare? Calcio di inizio senza pensarci due volte, MyClub la chiave del buon gioco di squadra Puoi aumentare il valore di spirito squadra anche ingaggiando giocatori con buone capacità tattiche rispetto alle istruzioni squadra preferite dell'allenatore Ok, poi, ottieni GP ampliando la rosa dei giocatori, l'ho fatto 874 volte, ho aumentato praticamente più slot che potevo, non ce la faccio più Dopo un certo numero costa un voto aumentare i slot ragazzi Ma eccoci dall'estadio dei Minei Rao, vediamo un po', cominciamo subito subito la partita, dai Eccoci qua, vai, comincio subito subito con il mio consueto giropalla Wesley Snyder, parla di Juan Fran che come al solito col suo numero 10 si inserisce Palla, ancora, Shaqiri scambia 1-2 con Pisellone Salah, guardatelo come scatta Che essere, mamma mia, tanto un cross ma vengo inesorabilmente chiuso dal nostro avversario Quindi, battiamo subito la rimessa laterale, ancora Pisellone Salah si fa buggerare da Koke che è veramente bravo Ripartenza in contropiede, addirittura devo uscire con Noire e buttare via la palla Mamma mia, che cosa ho rischiato Vediamo se riesco a recuperare il possesso del pallone, ma niente De Michelis, ancora, recupera il pallone, scambi rapidi a centro campo, ragazzi Wesley Snyder tenta un'imbucata alta, Pisellone Remi non riesce ad agganciare Passiamo ad un'azione di contropiede per lui, ragazzi, guardate che cosa sta combinando Adesso andrà al tiro, mamma mia, Noire, per fortuna che era centrale, ragazzi Questa poteva essere una palla rischiosissima Riparto ancora una volta, Shaqiri, vediamo un po', mamma mia, si è fatto anticipare come un pivellino Snyder ancora una volta, palla per Remi che si destreggia al centro del campo Tenta un'imbucata per Rafinha, ma niente, vengo ancora una volta chiuso Mamma mia, sto a morire Allora, Dovan Zapata, vediamo un po', Pizzellone Ramirez che lo recupera Ma pure Zapata direi che si difende grande e bene Mamma mia, Ramirez, oddio, oddio Mamma mia, di poco, di poco, mamma mia, a momenti lo imbuco Lo stavo per bucherellare, ragazzi, guardate, Pizzellone Mangala come recupera il possesso della palla Ancora palla per Rafinha, ma che cazzata ho fatto, mamma mia, oddio, chiudetelo Oddio, mamma mia, ma che è qua Vai, ripartimo Oddio, certe volte a me succedono delle cazzate incredibili Naturalmente so io che seleziono, non è che succedono Ok, Shaqiri cerco di ripartire, ma niente, mi chiude ancora una volta e riparte in contropiede Dovan Zapata, ma Pizzellone Mangala fa sentire, come al solito, la sua presenza Eccoci con un'altra azione di contropiede Griezmann, palla per Campbell, oddio, chiudilo Mamma mia Mamma mia, un pallonetto di poco a lato, ragazzi Passiamo ad un'altra azione, ancora Koke che si inserisce Mamma mia, chiudilo Oddio mio Shaqiri, riparto subito in contropiede Vediamo un po' se ce riesco Juan Fran, passaggio per Remy, Pizzellone Remy e palla per Shaqiri Shaqiri si inserisce, questo è fallo Non mi ha dato fallo, vabbè Continuiamo a giocare, ragazzi Inserva niente, lamentasse Ancora una palla per Griezmann Mamma mia, si inserisce Miranda Oddio, tiro Mangala si è messo davanti Porca miseria Questo avversario sta creandomi difficoltà Ancora una volta Koke dal calcio d'angolo Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare Batte corto Per fortuna che riesco a spazzare la palla E mamma mia, ma che ho combinato Porca miseria Non so che cosa mi è successo Ancora cerco di ripartire Shaqiri Vediamo un po', questo scivola Me chiude In qualche modo è riuscito a recuperare la palla La recupero io ancora una volta E riparto con Pizzellone e Shaqiri Oddio, palla per Remy Cori, Cori, Cori Buttate in mezzo Tiro Mamma mia, ma murato vivo Praticamente Oddio Oddio Mamma mia Vabbè Trentasesimo minuto Guardate che rilancetto alla noiere Riparte in contropiede Bellissima l'azione di contropiede Koke Vediamo se riesce a fare qualcosa No Lo chiudo con Pizzellone e Mangala Passaggio per Remy Passaggio per Shaqiri Uno, due per Remy Che vediamo se si chiude Non si chiude Perché lui è più veloce di Remy addirittura Riparte ancora una volta Con Jay Gamble Che c'ha 175 di velocità Dovan Zapata pure Se la cava bene Mamma mia Butta fuori Sta palla Assolutamente Oddio Tiro da fuori Ho parato Oddio Questo mi sa che è fuori gioco Oddio mio Meno male Stavo a rischiare Il colpo del tracollo Al quarantadresimo minuto Wan Fran Ancora passaggio per Salah Imbucata per Wan Fran Ragazzi Vediamo se riesco a fare Un crossettino Oddio Mamma mia E niente Riparte ancora una volta Ma gli recupero il pallone Ancora Salah Perdo palla La recupero La riperdo Che cazzo sta succedendo Dovan Zapata riparte ancora una volta Oddio Mamma mia Per fortuna Che pure questo Era fuori gioco Che imbucatona Mamma mia Mi stava accogliendo Impreparato Addirittura Barzagli Eccolo qua Che si destreggia Passaggio per Salah Oddio Questo è fallo Questo è fallo Vabbè Addirittura il capitano Chi è Good se me pare Non ne so sicuro Vabbè Che è successo Koke Oddio Addirittura Koke Espulso Ha avuto un eccesso Di fuoco ragazzi E l'ha buttato fuori Mamma mia Wan Fran Ancora una volta Cross Vediamo il colpo di testa Che non arriva Cerco ancora una volta Vediamo un po' Che riesca a combinare Niente da fa' Mi sa che è finito Il primo tempo ragazzi Roma Bayer Monaco 0 a 0 54 di fossesso Palla per me Ma ha tirato Decisamente più lui In porta Dai Andiamo col secondo tempo E vediamo Che cosa succede Riparte subito Subito ragazzi Guardatelo come si inserisce Cerca di Trovare qualche varco Ma niente Non gli riesce Riparte da dietro Ovedes Passaggio che gli riesce Per Jay Campbell Ragazzi Stamose attenti A Campbell Che è veramente veloce Chiudo tutto quanto Con Pizzellone Mangala Come al solito E cerco di ripartire In contropiede Passaggio 1-2 Pizzellone Il possesso del pallone Adesso si incazzerà Cercando di farmi Un gol Vediamo un po' Chiudo tutto quanto Ragazzi Shaqiri Perdo ancora una volta Il possesso della palla Duvan Pizzellone Zapata lo perde A sua volta E riparto ancora una volta Col mio consueto Giro palla Dalla difesa Scambio 1-2 Lo scambio Schifosissimo Vabbè Vediamo se riesco A recuperare la palla Niente Non ci sono riuscito Oddio Oddio Chiudilo Chiudilo Mamma mia Alla prima occasione Così come ho fatto io Ma purgato ragazzi Siamo 1-1 Andiamo avanti E vediamo che cosa succede Remy Ancora scambio per Shaqiri 1-2 per Remy Palla alta per Wesley Snyder Mamma mia Tiro Oddio Oddio Che cosa ha preso ragazzi È uscito veramente Col contagocce Ed è riuscito quindi A togliermi la palla Dalla rete Ancora cerco di inserirmi Mamma mia Palla 1-2 Quanti 1-2 Tiro 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 Porca Puttano Ha parato pure questa E riparte ancora una volta In contropiede Mamma mia Ecco qua Buttate fuori Mamma mia Lancia sta palla Sugli spalti Regala da qualche ragazzino E riparto ancora una volta In contropiede ragazzi Palla alta per Pise E allora E Shachini Vediamo un po' Ha parato pure questa Mamma mia Devo dire che è molto bravo Sulle uscite Questo portierone Allora Vediamo un po' Cerchiamo di chiuderlo Mamma mia A momenti Oddio Ma che ha fatto È impazzito il portiere Addirittura Si è fatto un autocall De quelli bestiali Mamma mia Che fortuna ragazzi A sto giro 2-1 per me Porca miseria Eccolo qua Ripartiamo ancora una volta Recupera ancora una volta La palla Ragazzi Ancora Sala Vediamo se riesce A chiudere tutto Con una bella scivolata Ripartire in contropiede Eccolo qua Sala Corre Oddio Ammazza che corsa Continua Mamma mia Grande Si ferma Vediamo un po' Se riesce l'1-2 Ma chiude tutto quanto E qua Ero già bello Che è andato col passaggio E ho fatto una cappellata Facciamo qualche cambio Entra Pizzellone Dumbia Morata al posto Di Shaqiri E poi Gli altri lo faccio entrare Vediamoci un po' E che devo dire Montoya Al posto di Sala Ho abbassato Il livello di forza squadra Con questi cambi Ma avevo bisogno Di forze fresche Ok Vediamo un po' Che cosa riesca A combinare Ragazzi Lui riparte con 2 Pizzellone Zapata Ma lo chiudo Con Wesley Snyder E riparto ancora una volta Con un'altra azione Passiamo ad un'altra azione Ragazzi Lui con Jay Campbell Riparto Oddio Chiodetelo Mamma mia Gli ha tirato addosso Oddio Mamma mia Oddio Butta sta palla Che cosa ho rischiato Ragazzi Ha preso traversa Incredibile Ripartiamo ancora una volta Mamma mia Taglia così Butta sta palla a mezzo Taglie Niente È bello che è andato ragazzi 83 minuto Ho rischiato il colpo Del 2 a 2 Oh Mi sono salvato Ammazza il culo Taglia così Augusto Oddio Chiodetelo Chiodetelo Mamma mia Porca miseria Mi sta a mettere sotto Ragazzi Ricordiamoci che c'ha Un giocatore in meno Riparto ancora una volta Morata Parla per 6-2-Pizzellone Dumbia Sfruttiamo tutti gli spazi Per un rapido Contropiede Pizzellone Dumbia Ancora entra in area Di ricordo Tanto un cross Ho fatto un passaggio corto Guardate che roba Mamma mia E niente da fare Ecco alla Mi ha buttato per terra Questo mi sa che mi ha lasciato Il vantaggio Perché credo sia Fallo Cerco di ripartire ancora Con 6-2-Pizzellone Dumbia Ragazzi Eccolo qua Vediamo se riesco a Combinare qualcosa Cosa è uscito un'altra volta Benissimo Mamma mia Tagli Niente E' andata così Mi sa che la partita E' finita Ragazzi Vediamo un po' E che dati è 2-1 Ammazza sto giro Me so salvato Ragazzi 2-1 per noi Vediamo un po' Le statistiche di gioco Addirittura io 6 tiri a 4 Lui 9 a 6 Quindi non ha Assolutamente demeritato Nonostante un mio Possesso palla Superiore Ragazzi Se vi è piaciuto Un bel mi piace Commentate Condividete E iscrivetevi Al mio canale Adesso Dovinate un po' Che cosa andiamo a fare Dai Su Facciamoci una Bella pescatina Ragazzi E vediamo un po' Chi andiamo a Beccare Quindi Agente top UEFA Champions League Stars Siamo ancora alla Week 1 Pago con GP Confermo Me butto a mettere Come al solito E facciamo girare Le palle Eccolo qua Dai Vediamo un po' Quando lo vado a bloccare Io blocco sempre sui palloni oro Sperando di beccare Un pallone nero Ok Vediamo un po' Che cosa Che cosa succede Porca miseria Eccola Pallone oro Vabbè Chi è sto esserino qua Mai visto in vita mia Chi è questo È Meier Non lo conosco Porca puttana Vabbè Non me posso lamentare Perché comunque Cioè Sono riuscito a pescare Bei giocatorini In passato Quindi Che dire Ci ho provato pure stavolta A sto giro Non è andata bene Spero mi andrà bene Alla prossima Quindi Non mi resta che darvi appuntamento Al prossimo video Vi saluto A tutti quanti ragazzi Bella Ciao 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 Guardate Ciao 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 Grazie.